Rimonta in extremis del Real Madrid, che supera il Bayern dopo il 2-2 in Germania. Ancelotti in finale col Borussia Dortmund. Al tredicesimo Vinicius colpisce il palo, occasione per Kinn. E ancora Vinicius, ci prova Rudry, sessantesimo minuto. Tocca a Neur dire no a Vinicius. Runin respinge Musiala al sessantasettesimo. Da Vienne ordinal escarica la sassata, che vale lo zero uno. Vinicius dal limite venire impacciato Tappin di Giosè all'ottantottesimo. Al novantaduesimo lo stesso 34enne decide la partita e qualificazione su Assis di Rodríguez. Grazie. 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 Grazie.